Ecco, molto bene. Amore, siamo partiti. Abbiamo anche qualche amico. Saluta tutti, amore. Ragazzi, siamo arrivati a Cagliari. Quanti giorni abbiamo fatto in giro per il mare, amore? 9. 10. 9. 11. 8. 9. 7. 6. Amore, 9. 9 giorni, va bene. Abbiamo fatto 9 giorni. Come è andata? È la tua prima esperienza in parte? Sì, in parte, sì. Molto bene. Ti sei divertita? Molto. Vuoi dire qualcos'altro? Questo è il massimo che riusciamo a dire. Sono un po' rinconente, ma non c'è la testa. Sente il mal di mare, ma siamo a terra adesso. Allora, non avevo mal di mare. Un po'. All'interpin. 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 Non avevo mal di mare, solo che quando dopo 9 giorni scelta la parte ti gira un po' la testa. Gira un po' la testa, perché sei sempre abituato con le onde, un po' così, vedete anche adesso il telefono, che anche lui continua a fare... Praticamente quando arrivi a terra ti continua a girare tutto. Sì. Te vuoi dalla cabeza, si dice, amore? Cabezza? Sì, molto bene. Però ho imparato molto bene i vialetti. Come si dice qua? Andiamo? Sardo? Andam. No. Andam? Non so, andamo è romano. Andamo? Non so. Dice, aio! Andiamo. Per dire sì invece? Sì. Molto bene, amore. Dice amore fine. Amore, mi fai fare amore. Amore, mi fai fare amore. Adesso facciamo un altro. Si vede, aspetta, mi ha bloccato anche la tradizione. Adesso facciamo un altro. Ma io voglio... Amore, mi fai... Amore, allora, ti ho detto... Luca ha dei nervosismi, ma va bene. Volevo dire, amore, come si dice... Aspetta, dobbiamo dire sì in tua lingua cosa dimmelo. Amore. Qualcosa che so, però. Amore. Lascio. Come si dice buongiorno. Ragazzi, bravo, un applauso, un applauso, bravo. Buongiorno. Buongiorno. Dobrevano. Eh, bravo. Amore, facile. È perché ti servirà, eh. Facile. Quando si dice sì, in sardo si dice... Sardo. No. Eia. Ma tutto oia o. Se dice tutto oia o. Cioè dice buongiorno. Allora, andiamo si dice aio. Eh. Sì si dice eia. Quindi se ti dico aio o si dice eia. Se te devi dire sì, andiamo, come si dice? Eia o. Cos'è? Ho comprato la vocale. Ma è buongiorno. Amore. Eia io. Prova. Eia io, amore. È un po' così, se non lo scioglio lingua, ma è così. Invece, il siciliano lo sa molto bene. Quando uno è siciliano e deve dire andiamo, cosa dice? Minghia, andiamo. Picciotto, andiamo. Picciotto, andiamo. Picciotto, ammoni. Minghia. Minghia ci sta sempre, giusto? Sì. C'è qualcosa che siciliano l'ascolta e ci conforma. Comunque, tornando al nostro viaggio, amore, ti è piaciuto particolarmente con l'esperienza o no? Stare in mezzo al mare. Molto bello. Abbiamo dormito sempre all'ancora, ci siamo fermati in pochi porti fa due notti, una notte. Due, due, amore. Due notti. Due notti. Stavamo all'ancora, tu, amore, racconto un po'. In mezzo all'oceano pieno di squalte. Ma come è in mezzo all'oceano pieno di squalte? Schiazzando. Non è vero. Dove stavamo? Stavamo, amore, in mezzo al mare, non lo so. In una baia. In porto i pipini. Ancora con sto pappenna da capri, amore. Non se ne è compito con sto pappenna da capri. Stavamo in una baia all'ancora, capito? Quella notte guardavamo le stelle. La cosa bellissima. Oh, che bello, Piera. C'è tanto piace. Quante stelle. C'è tanto piace, allora. Abbiamo visto tantissime stelle cadenze, giusto? Molte. Quindi era un continuo di desideri, bacini, pugni nei denti. Non se ne poteva più. Come non se ne poteva più? No, dico, non poteva. Magari da solo a guardare queste stelle. La notte io non potevo parlare con lei perché era sempre là con questi pugni, questi baci. E ho detto, cosa sta facendo, voglio dire. Non è vero. Però quante ne avrai viste? Tante. Tipo, quantifichiamo? Quindici. In una notte sola? No, in una notte no. In una notte record? Oh, sette. Sette. E poi abbiamo visto anche Marte, giusto, amore? Perché fino ai primi giorni di agosto... Ma sei sicuro che è Marte? Penso di sì, ce lo confermo. C'è una stella arancione che è diversa dalle altre, quindi Luca è convinto che sia Marte. No, ragazzi, io ho letto che fino ai primi giorni di agosto era possibile vedere Marte. Allora, leggiamo un po' di commenti, ma non si legge. Perché Luca ha il telefono spaccato. Ragazzi, ho spaccato il telefono. In tanti di voi mi chiedono, ma come mai non fai più i video dove dai le testate? Sul telefono, ma semplicemente perché l'ho spaccato a metà, quindi c'è queste righe fosforescete, non si vede niente, siamo mezzi accecati sullo schermo. Comunque, va bene, quindi così. Poi anche ieri pensai di aver visto un alieno, giusto, amore? Sì, ma erano i... Che cos'erano? Le lanterne cinesi, che mi tuoi si è messo a urlare. Ah, sì, amore, ma te. Ma io dico, oggi abbiamo visto i delfini, era convinta che fossero squali, non se ne può più, ma no. Come si fa? Ma come si fa? Amore, tutto ok? It's ok, it's ok? Ma io si è bene. Amore, come non sto bene, amore? Amore, siete bene? Non mi stai tenere, amore. Fai un po' i cuccioli, vada qui. Non mi stai bene? Non mi stai bene? Allora, amore, cosa vuoi dire? Abbiamo un amico che dice, sto venendo da voi, capito? Ma qua un po' piove, adesso si è sotto il silubio, aspetta, vediamo, vediamo. Vedi, qua siamo al porto. Qua è un tempo. Sì, esattamente. Ecco, questa è la panchina dove adesso noi, come due anziani, ci metteremo a fissare il mare, la gente che lavora, capito? Noi staremo lì a non fare una mazza. Giusto, amore? Sì. Che lei da, tipo, dieci giorni che non si lava, la roba, ragazzi. Ma che cosa sta facendo? No, però, una doccia dobbiamo fare. Allora, sono delle cavolate, ok? Amore, allora, no, amore, non è contro di nero, amore, non è contro di nero. Allora, va bene. Allora, salutatemi, saluta che non si legge perché abbiamo lo schermo rotto. Aspetta, adesso proviamo a leggere. Maggaretta, uomo, tutta la vita. Venga, Maggaretta, me lo faccio sto, venga di saluto, per favore. Fammi la saluta, fammi la saluta. Maggaretta. Quanto è bella la faccia di margherita. Mi piace tanto. Mi piace tanto. Cos'è che hai detto? Che la vita reale vorresti essere? Margherita. Margherita, vorrebbe avere la faccia di margherita. Sì, mi piace troppo. Mi fa troppo tenere. Sì, carino. Sì, carino. Ma a proposi carino, noi tra poco andremo a vedere chi andremo a vedere, amore. Dai questo annuncio, dai, servi questa notizia. Non ancora. Non ancora, non ve lo possiamo dire. Ma già, avrete capito. Ha capito, dici, non lo so. Non lo so. You don't know. Honest on Wayman. Ecco, allora, adesso facciamo, ragazzi. Visto che lui mi fa fare sti figura, adesso diciamo a Luca di parlare un po' in inglese. Of course. Yes, of course. It's okay, it's okay, English way. Femmi, what do I have to say? Eh, dici della tua vacanza. Ma adesso del discorso, io non lo so. Sì, amore, mi dai. Amore, ricordate, io ho il p-choo in inglese. Ah, p-choo, 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 p-choo. C'è l'unico che riesce a parlare in inglese con l'accento romagnolo. Ovvio, questo non è una roba da poco. Perché cosa dicevo, non so, per dire, non so, buongiorno, how are you, how are you, come sta? Un gran po' in schiena. Buongiorno, come stai? Good morning, how are you, fine, thanks and you. Allora, questo era normale, l'ho detto bene, no? Ho detto con l'accento romagnolo. Vessio, mamma mia. Si sente ragazzi su romagnolo, no, vero? No, no, no. Adesso dobbiamo scegliere. What about? In che accetto ballerò io? Tu, romagnolo, amore. Non lo so se parlare in romagnolo e in milanese. Parla in romagnolo. Con il tassi. Sapete che mi ha detto una volta, io sono andato sul tassi, tassi, come lo chiami tu. Tassi? Il tassista mi ha chiesto se ero beneta. Ho detto, amore, ti prendi a percuro. E' proprio l'accento di Torino, ne è uguale, è uguale, parla come la letizia, è uguale, amore, o no? Ah, così, no, no, no. Parla l'accento di Torino, quello è più o meno, o no? No, allora no. Che accento hai? Secondo me è un po' misto. Misto cosa? Romagnolo, milanese. Un po' meticio. Cecco. Cecco, molto ceco. Ma che molto ceco? Ma parlo così veramente, parlo così? Amore, fatti una risata, già dalla risata si capiscono tante cose. Prova, vedi. Riti, 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 aglio l'orologio. Amore, che adesso... Amore che ne è ruposo, amore che ne è ruposo. Aia. Non c'ho una pazienza, ragazzi, una pazienza. Non la pazienza, non me la venivano. Dieci giorni, tre metri quadri. No, vabbè, stavamo un po' strettini, è stato bello, è stato bello. Ivana, tu e l'accento romagnolo, ci dicono. Aspetta, chi lo dice? Mi facciamo a picareggere perché c'è lo schermo. Grazie. È vero. Allora, quando tornerete, mamma mia, non riesco a leggere, ragazzi. Non riesco a leggere. Quando tornerete, quando tornate, siete una gioia. Quando torniamo dove, dove torniamo? A Malano, Malano, social, 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 che vedi, il romagnolo lo impara benissimo. Amore, sino spettacolo, sino spettacolo. Guarda che viene a Cisenatico, quando? A fine agosto. A fine agosto, sì, speriamo di cinque, a Cisenatico. Ragazzi, poi abbiamo una sorpresa per voi, però non c'è la mia. Qual è? Ah! Allora, ve lo dico immediatamente, praticamente la sorpresa è... Non lo posso dire. No. Favelo dire. No. No, lo posso dire. No, lo posso dire. Non lo posso dire. Non lo possiamo dire. Va bene, va bene. Amore, parla un po' come Margherita. Vai. Amore, ma Margherita parla normale. Amore, parla come un piccione. No, ma era Tachino, tra l'altro, non era piccione. Allora parla come un Tachino. Amore, dai, mi smettano. Una roba, una roba, ragazzi. Comunque, niente, siamo qua, tutto a posto. Avete passato un buon'estate? Speriamo di sì, non ci siamo divertiti tanto. Siamo stati qua insieme 24 su 24. Non è finita, perché adesso ci sarà un altro giretto, giusto, amore? Un altro giretto e poi dopo da... E poi ci sarà un altro giretto. Poi ci sarà un altro giretto dopo. Da 25 di agosto poi torniamo a Malano con Piappaplano, o no? Sì. Ti manca un po' Fufi Rufi. Ti mando un saluto a Fufi Rufi. C'ho Fufi. Fufi Rufi. Lui è cattolica, doveva andare a trovare, ma... Ma non abbiamo restato più rezzo. Sta anche piovendo, ragazzi, come se non bastasse, sta anche piovendo. Sta piove. Sta piove. Allora, quando piove, il romagnolo, come se dici? E' a oggi. Carinissimi. Grazie, ragazzi. Grazie, grazie, grazie. Saluta. Qua, saluta, dai. Saluta. E' saluta. E' saluta. E' saluta. No, che non si legge, non si legge, perché c'è la feste, non si legge bene, non si legge. 20, 20, 20, 20, grazie, salutatevi, salutatevi. Eh, ok, no, perfetto. Ok. Aspetta, vediamo cos'è. No, come se legge, non si legge, non si legge, non si legge.